Eccoci! 770 metri di nuova pista ciclabile, un importante collegamento per il quartiere di Saione e San Donato e il nuovo tratto che costeggia il Vingone. Andranno a dare una risposta e soprattutto a unire i percorsi ciclabili che abbiamo già all'interno della nostra città andando a dare anche una risposta a quelli che sono due quartieri importanti della nostra città quindi con questa ciclabili verrà unito il quartiere di San Donato dal quartiere di Saione sono due quartieri molto popolosi e soprattutto che mettiamo in questa maniera in collegamento quelli che sono i percorsi ciclabili che già insistono sulla nostra città. Il Comune di Arezzo ha realizzato il nuovo tratto di pista ciclabile con le risorse previste dal decreto ministeriale dell'agosto 2020 pari a circa 352 mila euro. Stiamo portando avanti anche grazie al PNRR ulteriori progettazioni per circa 7 chilometri di piste ciclabili quindi da parte dell'amministrazione c'è sicuramente l'intenzione e l'interesse di portare avanti quello che è lo sviluppo della mobilità sostenibile per rendere anche fruibile e maggior accessibile quello che è la mobilità all'interno della nostra città. Il nuovo tratto connette la pista ciclopedonale esistente di Via Nenni a Via Colombo e Via Tolomeo passando dalle pertinenze di Via del Vingone. Lungo tutto il tracciato è stato anche realizzato un nuovo impianto di illuminazione dedicata. È un segno, se vogliamo, della nuova modernità. L'automobile è il vecchio, la bicicletta è la mobilità sostenibile, dolce, leggera, non inquinante è veramente il futuro, anche perché la sola auto elettrica ammesso e anche concesso che sia da fonte rinnovabile ha sempre problemi di occupazione di suolo quindi dove sta un'automobile ci stanno 20 ciclisti per dire quindi dove parcheggia un'automobile parcheggia 20 biciclette quindi l'occupazione dello spazio urbano che è sempre un bene limitato quindi la bicicletta ne dà la massima fruibilità.